Cari amici ben ritrovati! Oggi vi porto alla scoperta del pannello led che mi sta illuminando in questo momento. Parliamo del Nanguang RGB-173. Un pannello led capace di emettere la luce in tre modalità differenti e fra poco ve le farò vedere. Parliamo di comunque di tre modalità, luce morbida come quella che sto utilizzando in questo momento, luce dura come quella che sto utilizzando in questo momento e controllo RGB quindi con emissione di colori differenti come quella che sto utilizzando in questo momento. L'utilizzo che si può fare di questi pannelli è veramente incredibile. Ritengo in particolare incredibilmente interessante la modalità RGB per quelli che possono essere utilizzi in ambito artistico. Pensiamo ad esempio alla realizzazione di videoclip musicali. Io sono un videomaker che si occupa molto spesso di questo tipo di modalità di registrazione video e quindi spesso e volentieri è molto comoda quella modalità perché consente appunto di ricreare effettistica in ambito musicale. Ma questo tipo di pannelli possono essere indicati anche per illuminare ambienti e creare effetti molto interessanti artistici e creativi in termini di profondità di spazi dove si gira. Altra cosa molto interessante è appunto quella di attenuare la luce in maniera naturale direttamente dal pannello senza necessariamente dover accessoriarsi di softbox ulteriori. Il pannello infatti come vi dicevo è dotato di tre modalità appunto in tal senso di orientamento della luce che vi ho appena fatto vedere e questo quindi consente di variare molto velocemente la modalità appunto e la durezza della luce. Altra cosa molto interessante è la possibilità di avere un sistema di dimmeraggio nonché di gestione del colore in tutte le modalità comprese quelle degli effetti. Infatti è possibile cambiare effetto ma soprattutto e applicare l'effetto ad ogni tonalità di colore. Il pannello è infatti dotato di tre modalità effetto che sono SOS, lampeggio flash di tre tipologie e luce continua. Ora andiamo a vederlo un po' più da vicino e vediamo come si gestisce come si gestiscono le varie funzionalità. Il pannello è dotato di un suo alimentatore facilmente agganciabile a un nostro stativo grazie a questa fascetta di cui è stato dotato. sotto al pannello abbiamo questo aggancio con cui è possibile far ruotare il pannello in questa modalità. Possiamo inoltre montare sul nostro pannello le batterie Canon. Da notare che per funzionare le batterie devono essere almeno due e inserite in entrambe gli slot. Lo sgancio rapido ha un pulsantino qui in alto, basta schiacciarlo e possiamo disinserire le batterie. Il pannello risulta essere molto elegante nella sua costruzione ed ha un spessore veramente molto molto piccolo. La grandezza del pannello è circa un 13 pollici di un computer portatile. È molto fino come potete vedere e quindi può essere trasportato serenamente all'interno di uno zaino anche nella parte posteriore dello zaino. Chiaramente da fare attenzione a non schiacciarlo. Ed ecco il pannello posteriore del nostro RGB 173. Come vedete ho preparato di fronte a me anche un inquadratura che seppur non così affascinante però comunque ci aiuterà a capire gli effetti che possono essere ricreati grazie al nostro pannello. Il primo tasto che andiamo ad analizzare è questo qui posto sulla parte centrale. È un tasto chiaramente di accensione che come vedete tenendolo premuto per tre secondi parte subito il pannello, fa partire il pannello. Lo stesso tasto può essere utilizzato come tasto funzione ma vedremo a far poco. Qui a sinistra abbiamo il trimmer relativo alla potenza di luce quindi basta variare e con molta facilità passiamo da uno zero ad un massimo di 100. Come vedete a zero spegniamo completamente il nostro led da un punto di vista operativo o comunque di luce che esce dal pannello ma in realtà il pannello è acceso. Già da uno abbiamo una piccolissima fonte di luce fino ad arrivare a 100. Il trimmer è veramente gradevole al tatto e si riesce a passare da un parametro all'altro molto facilmente. A destra abbiamo invece un altro potenziometro che identificato da questo simbolo di colori ci fa capire che si tratta appunto della temperatura colore. Si passa da 3200 gradi kelvin anzi vi faccio osservare che ho impostato la mia macchina fotografica con una temperatura colore di 5600 gradi kelvin fissa quindi adesso stiamo vedendo un 3200 su appunto un 5600 di temperatura della macchina impostata quindi riusciamo a capire bene la temperatura come cambia. vado ad alzare alzo alzo 4.5 4.9 5.3 5.6 e questo è il bianco sempre il tasto centrale ci porta in tre modalità e andiamo ad affrontarle la prima è quella che in cui ci troviamo in questo momento vi ricordo che sono al massimo della potenza e a 5600 gradi kelvin con il tasto centrale passiamo in una seconda modalità ho ridotto l'esposizione della mia macchina fotografica al fine di restituire un'immagine correttamente esposta e vi faccio notare come l'immagine oltre ad aver subito un incremento di illuminazione ha anche soprattutto subito una differenza proprio di modalità di luce cioè di illuminazione infatti nella prima modalità avevamo una luce più soft quindi in questa seconda quindi nella seconda modalità abbiamo una luce hard modalità che può essere a volte utilizzata quando si desidera avere dei contorni molto più duri e quindi molto più forti si accentuano chiaramente immediatamente le luci e così come le ombre vi sottospongo adesso l'immagine così da farvi vedere un'immagine più contrastata e più sicuramente più dura da questo punto di vista in questa modalità invece vedete come la luce è molto più attenuata con una sorta di soft box e tutto rim risulta essere più tenue terzo tab andiamo a vederlo quindi secondo luce più potente terzo tab passiamo nella modalità colore vado a ridurre l'esposizione sulla mia camera riportando il tutto a un'esposizione a zero e ci troviamo nella modalità 360 qui abbiamo un passaggio che va da zero a 360 regalandoci tonalità di colore partiamo da anche questa chiaramente è dimmerabile quindi sul primo pulsore rimane sempre possibile cambiare la dimmer quindi la potenza di luce e sul lato sinistro quindi sull'altro dimmer abbiamo da zero che sarà sempre rosso passando per tutte le tonalità come vedete fino di nuovo al rosso a 360 tutte queste operazioni chiaramente possono essere fatte riducendo la nostra fonte di illuminazione vi faccio notare come l'effetto è veramente gradevole e soprattutto accattivante e vi ricordo che questo tipo di illuminazione può essere veramente interessante su un set ad esempio artistico quali ad esempio videoclip musicali e quant'altro in virtù di ciò vi vado ad indicare questi ultimi due tasti funzione perché i primi due in realtà servono a semplicemente impostare i parametri di configurazione in relazione ad altri pannelli e quindi all'app al ricevitore insomma del pannello stesso quindi per mettere in serie più pannelli e remutare i controlli dello stesso gli ultimi due pulsanti invece sono rappresentano il primo pulsante effetto che cosa serve andiamo a schiacciare abbiamo un effetto di flash come vedete a cui possiamo applicare chiaramente alla variazione di colore come sempre o la variazione di intensità quindi qualsiasi cosa noi andiamo a fare possiamo decidere di comunque intervenire sui due potenziometri che abbiamo visto all'inizio flash a 25 flash a 100 e quindi avere una durata maggiore dell'intermittenza più lenta e l'ultimo flash regolabile e quindi possiamo decidere a quanto impostare l'intervallo di accensione spegnimento fino a un massimo di f 0 10 in cui abbiamo questo effetto se vi state domandando a che cosa possa servire questo tipo di illuminazione ebbene nel concetto è sempre dedicato al mondo degli effetti artistici per ultimo abbiamo l'effetto SOS cioè un'intermittenza variabile e anche qui come sempre possiamo cambiare la tonalità del nostro colore si può poi passare all'ultima modalità che è quella della RGB semplicemente schiacciando questo tasto e con il tasto ultimo qui che abbiamo a disposizione vedete che abbiamo tre differenti modalità di cambio colore il colore cambia in maniera continuata in loop così come ci fa vedere la grafica del display e abbiamo la colorazione che cambia appunto passando appunto dal rosso al blu al verde eccetera eccetera ritornando poi a ciclo sullo stesso e possiamo variare il tutto bloccando chiaramente il flusso oppure scegliendo i vari loop perci vedere le tre modalità di illuminazione in questo caso abbiamo l'illuminazione concentrica sui punti di illuminazione che è molto più forte ma anche più dura come luce meno morbida modalità colorata e qui passiamo ai vari colori così come abbiamo visto e l'ultima ecco la modalità di illuminazione a softbox ebbene quindi l'abbiamo visto un po' più da vicino io spero che questo video tutorial ti sia piaciuto e che ti abbia dato soprattutto una consapevolezza di che cosa e di dove può portarti questo led in termini di illuminazione ricordati che l'illuminazione in ambito fotografico e quindi anche a livello fotografia nel video è fondamentale e non c'è videocamera che ti salvi se tu non hai una fonte di illuminazione decorosa prima pensa alla luce poi tutto il resto degli accessori per il momento è tutto io ti ringrazio e ti lascio al prossimo video ciao 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 ciao